Incontro con in questa nuova scenografia, anzitutto ben ritrovati all'ascolto, gentili telespettatrici e telespettatori di Telebelluno. Una nuova scenografia, quest'oggi ospitiamo uno scrittore, ma ancora prima conosciuto nell'ambito del mondo dello sci, istruttore nazionale di sci, ovvero insegna ai maestri lo sci alpino, psicologo e fondatore di Mente Mobile. Insomma, in poche parole, saluto e ringrazio l'amico Luca Bertagnolli. Ciao Luca! Ciao Claudio, grazie dell'invito. Amico di Telebelluno e Dolomiti Live TV, perché tra l'altro conduttore anche della fortunata serie Dolomiti sui sci, alla quale stiamo già lavorando per la prossima stagione, vero? Sì, è una famiglia ormai, Telebelluno e Dolomiti Live TV. Sì, stiamo già lavorando alle prossime puntate, ma non spoleremo niente. Assolutamente, anche perché di argomenti ne abbiamo, voglio dire, non parliamo della tua carriera di istruttore nazionale maestri di sci, non parliamo della tua attività psicologo, ma concentriamo questa nostra chiacchierata perché abbiamo detto Luca Bertagnolli, scrittore. Eh sì, perché, gentili telespettatori, dovete sapere che Luca Bertagnolli effettivamente ha scritto un libro. Si intitola Star Points, eccolo, ed è stato presentato proprio qualche giorno fa a Belluno e possiamo trovarlo nelle migliori librerie. Luca, una domanda semplicissima. Come nasce l'idea di scrivere un libro? Ecco, e dove hai trovato il tempo per farlo? Diciamo che l'idea è stata, come hai detto bene tu, prima fondatore di Mente Mobile, adesso io lavoro molto nel mio ramo di esperto di scienze tecniche psicologiche, quindi nel ramo delle risorse umane in azienda, e ho pensato di creare un biglietto da visita non convenzionale. E' giusto che la gente non abbia solamente dei dati, ma abbia una storia, perché i dati vengono dopo le narrazioni. Le narrazioni sono, di sicuro, fanno parte del mio lavoro perché danno sostegno alle persone, infatti lo scopo del mio lavoro e di questo libro è dare la motivazione alle persone che abbiamo mille punti di partenza e di ripartenza nella vita, ecco perché si chiama Star Points, e dobbiamo saper vedere le cose da un altro punto di vista, ed ecco perché l'immagine mia è in verticale sugli sci, quindi dobbiamo usare il pensiero laterale per affrontare oggigiorno la velocità del cambiamento che da mille punti di vista ci mette in condizione il modo di sapere affrontare. Purtroppo nella vita abbiamo mille difficoltà, abbiamo mille insuccessi, mille fallimenti, non solo successi e dobbiamo cercare di capire che la vita è il nostro primo insegnante, ecco perché narro la mia vita fatta di competenze trasversali che ho imparato attraverso le esperienze che ho fatto e dopo ho studiato, le ho convogliate poi in un lavoro. E quindi lo scopo è quello di aiutare le persone, il proposito è quello di aiutarle perché loro possano arrivare a una propria serenità, una propria felicità, una propria soddisfazione personale. E trovare il meglio di sé anche dove non lo vediamo, con gli aspetti nascosti e che magari non riusciamo a vedere. Allora, questo libro secondo me è particolarmente interessante perché tu per arrivare a questo, far capire quella che è la tua attività adesso di psicologo e fondatore di Mente Mobile, perché fai formazione nelle aziende, però per arrivare a questo spieghi anche tutta la tua storia, racchiusa in termini semplici, perché la tua storia è stata costellata di anche tanti successi, ma anche tante difficoltà. Voglio dire, iniziato con una carriera sciistica, poi con i successi agonistici di istruttore nazionale di sci, l'incidente, contemporaneamente la formazione, ti sei laureato, insomma capire anche tutto quello che è il percorso, che non è facile per arrivare a quello che fai, giusto Luca? Hai detto giusto, tutto, sei stato molto bravo, tutto quello che io ho fatto nella vita anche di diverso, se vuoi, rispetto a quello che faccio attualmente, perché comunque continuo a svolgere la mia professione di istruttore nazionale, ma svolgo anche un'altra professione che ha dei nessi, che si chiama formazione, quindi formi le persone all'azione. La mia vita è nata come atleta, si è sviluppata come professionista sugli sci, ma sono sempre stato aperto a scoprire e ad essere curioso di andare a capire dove la mia persona poteva essere la versione migliore di sé. Ringrazio tutte le esperienze, ringrazio le persone che mi sono state vicino, ma anche le persone che me l'hanno fatta trovare un po' lunga, si dice in gergo, quindi che mi hanno messo un po' in difficoltà. Ringrazio anche, non solo gli insuccessi, ma le difficoltà che ho incontrato, anche di salute, se vuoi, perché mi hanno permesso di mettere in campo la determinazione, la volontà, l'impegno, il non mollare mai, che sono tutte competenze che ho acquisito facendo lo sport e tutte le attività che ho fatto. E non solo questo, anche l'educazione genitoriale e l'ambiente in cui ho vissuto. Quindi A più B più C più D, queste competenze trasversali hanno creato appunto la personalità, hanno plasmato la personalità e hanno plasmato il carattere. Quindi io dico sempre alle persone, insegno umilmente, insegnare significa segnare dentro, quindi è una cosa molto umile anche, insegnare perché ti impegni a segnare dentro le persone quelle che sono le competenze trasversali che servono le persone per affrontare qualsiasi tipo di ambiente, qualsiasi tipo di lavoro, qualsiasi tipo di situazione, qualsiasi tipo di gestione di obiezioni, di conflitti o di difficoltà o godersi anche il successo, quindi godersi anche le piccole cose. Questo narra il mio libro. Luca, la tua attività è continua come istruttore nazionale di sci, quindi insegna ai maestri in poca sostanza e contemporaneamente insegni anche alle aziende, tramite Mente Mobile, queste competenze trasversali. Una curiosità, ti dà più soddisfazione l'una o l'altra attività delle due? Diciamo che tutti e due mi danno grandissima soddisfazione perché le mie origini sono lo sci. Dall'altra parte, quando vado in azienda, mi concentro, non all'aria aperta, quindi al chiuso, con le persone per gestire le loro preoccupazioni, le loro difficoltà e per riuscire a guidarle verso lo scopo loro, il proposito loro. Devo dire che una vita di insegnamento mi ha insegnato, quindi insegnare insegna. Io sono sempre molto curioso, sempre molto assetato di sapere e quindi quando incontro una persona mi piace conoscerla per capire che cosa mi può insegnare. È un paradosso perché lei si aspetta che io gli insegni qualcosa, invece umilmente io mi pongo verso la persona per scoprire che cosa può insegnarmi lei e come possiamo arrivare insieme al traguardo. Ecco Luca, in Star Points c'è un passaggio che io trovo particolarmente interessante e che può essere probabilmente anche da utile stimolo per i giovani. Tu avevi già una carriera di istruttore nazionale e inserito nel mondo dello sci internazionale di successo, eppure il libro narra che hai cominciato a studiare psicologia la sera, di notte, facendoti quantità infinite di caffè, lo stimolo, trovare questo stimolo dov'è? Non avevi momenti liberi in quel momento, in quei momenti, in quei periodi, perché insomma la laurea dura anni e non l'hai fatta da giovanissimo, non ti sei laureato da giovanissimo, insomma da 20 o 30 anni. Grazie del vecchio, ma comunque dopo ci vediamo fuori. Siamo quasi coetanei peraltro, quindi... No, hai detto bene, nel senso che non è l'età che determina poi la partenza di una cosa o meno, ma è proprio l'ispirazione. Io sentivo di aver fatto tanta attività fisica, però sentivo di aver bisogno di sapere e di studiare. Quindi ringrazio, e non voglio spoilerare chi, ma comunque tutte le persone che mi hanno supportato e mi hanno stimolato a iscrivermi a psicologia, a Milano. È vero che ho studiato la sera, è vero che non avevo tempo libero, è vero che ho visto delle albe vestite da sci, però questa forza, questa determinazione me l'hanno data l'educazione genitoriale, l'ambiente in cui ho vissuto, quindi ringrazio mio padre, ringrazio mia madre, ringrazio lo sci, ringrazio tutte le difficoltà, anche le alzatacce mattutine e tutto il freddo che ho preso e tutto quello che ho sofferto che mi ha permesso poi a 42 anni, perché mi sono laureato, hai detto bene, a 42 anni, di sopportare anche in un'età non più giovane dei ritmi, perché la nostra testa è sempre un po' giovane. Non mi sono accorto di aver superato un attimo il limite, sono stato male, è vero, ho avuto una morasia cerebrale. Sulisci in falori, è vero, ecco, è stata questa una delle svolte della tua vita, inaspettata logicamente, è stata un'ulteriore svolta questa? Sì, perché un po' metaforicamente parlando, un po' quando giochi al gioco dell'oca, che tiri il dato e torni al punto di partenza, io sono tornato al punto di partenza e ho dovuto da solo, perché in quei momenti lì non c'è nessuno che ti aiuta, anche se tutti i tuoi affetti ti appoggiano, ma lì, in quel momento, tu lì sei da solo, quindi… Luca, Starpoint, quindi il titolo del libro, una partenza infinita alla tua vita? Ce ne saranno ancora quindi partenze, immagino? Ma tutti abbiamo partenze e ripartenze, quindi ho voluto narrare questa storia, perché è un po' la storia di tutti. Quindi per essere vicino alle persone, le persone devono sentire parlare la stessa voce. Ci sono persone che ce la fanno, persone che non ce la fanno. Io fino adesso ce l'ho fatta, speriamo di farcela anche domani, però ci metterò di sicuramente volontà, impegno e determinazione. Quindi non abbiate paura di soffrire, non abbiate paura di fare fatica, non abbiate paura di affrontare cose difficili, perché lì è il vero insegnamento. Il successo è la prima resistenza al cambiamento, invece la difficoltà ti insegna molto perché la devi superare. Luca, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, è stato davvero un grande piacere. Starpoint, quindi in libreria, noi ci rivediamo quest'inverno sulle piste da sci. Grazie mille e auguro a tutti di usare sempre una mente mobile. E a voi tutti gentili telespettatori e telespettatrici, grazie per la gentile astensione, e arrivederci alla prossima puntata di Incontro Con. Grazie mille e auguro a tutti.